Un tempo gli elettori siciliani lo sostenevano a spada tratta, più volte lontani i fasti dei primi club di Forza Italia, della supervittoria delle elezioni politiche del 2001 con 61 collegi siciliani su 61 conquistati dal centrodestra, dello sconosciuto Diego Cammarata, promosso sul campo sindaco di Palermo per dieci anni. Gianfranco Miciche sembrava ormai finito, perse le amministrative nella sua città, Palermo, straperse le elezioni regionali, dove ha preso a meno voti del grillino cancelleri nella corsa governatore, perse anche le ultime politiche con Grande Sud che raggranella lo 0,3% tenendolo fuori da Palazzo Madama. Invece il luogotenente di Berlusconi, amico, fraterno di Marcello Dell'Utri, è tornato sottosegretario alla pubblica amministrazione del governo più democristiano della democristianissima storia d'Italia e dopo le ennesime polemiche Gianfranco Miciche si confessa con il Corriere della Sera in un'intervista concessa a Felice Cavallaro. Sono praticamente archiviati gli scontri con Angelino Alfano, Renato Schifani e Giuseppe Castiglione. Miciche parla anche di chi lo ha aiutato dopo la grande crisi delle regionali. Ammette di essere stato trombato in ottobre. Sui rapporti con Alfano, Schifani e Castiglione Miciche adesso getta benzina sul fuoco. Se ne sono dette di peggio Bersani e Berlusconi eppure stanno insieme adesso. Si litiga anche all'interno della propria area ma poi con l'età subentrano altri sentimenti. Anche perché alle regionali secondo Miciche l'errore è stato generale. Sbagliamo tutti, io e loro, perdendo la regione siciliana. L'errore ci fu anche se non sappiamo se è nato prima l'uovo o la gallina. Errore generale ma Berlusconi ha preteso che non se ne facessero più. E Miciche stringe rapporti anche con Simona Vicari. Bello che ci sia lei al governo, sarà utile. Parole migliori per un altro siciliano, il leader dell'Udc isolano e neoministro Giampiero D'Alia. Con lui è un'ottima intesa. Quando la Lega si accorgerà di due siciliani alla funzione pubblica ci sarà da ridere per un governo che, secondo il leader di Grande Sud, potrà anche durare cinque anni.